Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della Petzl Ico Core, una torcia da trail running che mi ha veramente stupito per le sue caratteristiche e anche per il suo prezzo. Ma iniziamo subito con la recensione e vediamone pregi e difetti. Inizio subito con la caratteristica che più mi è piaciuta di questa Ico Core, ovvero come sta in testa. Perché questa Ico Core è caratterizzata da due parti, possiamo vedere la parte anteriore, che è quella dove naturalmente c'è la luce, abbiamo tutta la parte che emana il fascio luminoso, e la parte posteriore, che invece è dove c'è la batteria e anche il cordino per andare a stringerla. Queste due parti sono tenute e unite insieme dal sistema AirFit. Questo sistema AirFit non è altro che una banda, anche resistente all'acqua, che praticamente ci permette di calzare la torcia. E questa banda è veramente fatta bene. Quando noi utilizziamo la torcia e la mettiamo in testa, vi assicuro, non balla per nulla. E la cosa che più mi è piaciuta è che non balla anche tenendo il laccetto di chiusura abbastanza largo. Cioè non c'è bisogno di andare a stringerlo fortissimo come magari con delle torce più classiche. Io vi assicuro l'ho tenuto abbastanza lasco, senza andare a stringerlo, senza per intenderci arrivare ad avere il segno della torcia, dopo qualche ora che la si utilizza, e non balla. Questo secondo me è perfetto per chi magari corre, fa trail e sta fuori anche da notte in qualche gara, ne evita di togliere la torcia al mattino con tutto il segno della torcia sulla fronte, che magari ci fa anche male. E per stringerla, anche qua, semplicissimo. Abbiamo un laccettino arancione nella parte posteriore da andare a tirare e la torcia si stringe. Quindi anche se non la mettiamo su e poi ci accorgiamo che magari è un po' balla, vogliamo fermarla e vogliamo stringerla, in un danno secondo tirando l'accordino questa si stringe. È veramente come sistema di chiusura fatto molto molto bene. Passando invece alla parte anteriore dove viene emanata la luce, qui troviamo 7 led che emanano 3 diverse intensità di luce. Quella più bassa parliamo di 6 lumen che arriva a una distanza dichiarata di 10 metri. Quella standard arriva a 100 lumen con una distanza dichiarata di 45 metri. E invece quella massima arriva a 500 lumen con una distanza dichiarata di 100 metri. A livello di luce, proprio di fascio luminoso, devo dire che mi è piaciuto perché è un fascio luminoso molto diretto, per intenderci non illumina tutto quello che abbiamo attorno, non va a disperdere la luce e illuminare cose che magari neanche ci interessano da vedere, ma ha un fascio molto diretto che va molto in profondità, che ci permette di poter vedere molto bene le cose lontane. Evita quindi di andare a illuminare tutte quelle zone che, correndo, camminando, magari non ci interessano, ma arriva al sodo. E questo l'ho particolarmente apprezzato perché soprattutto quando magari si fa trail e si va veloce e bisogna guardare non da dove si mettono i piedi, ma bisogna guardare magari 10-20 metri più avanti, ecco, una torcia di questo tipo ci eviterà sicuramente di inciampare. Altro aspetto che mi è piaciuto è che è facilissimo passare tra i menu, infatti troviamo un tasto nella parte inferiore con il quale premendolo passiamo tra i menu, e sempre tenendo premuto questo tasto per 3 secondi entriamo anche nella funzione di lock che evita che la torcia si possa accendere da sola quando è all'interno dello zaino. Passando invece alla parte posteriore parliamo della batteria perché questa ICO Core ha una tecnologia molto particolare, una tecnologia ibrida, ovvero noi possiamo utilizzarla con la batteria Core che viene data in dotazione di Petzl e con tre batterie AAA, le stilo quelle piccoline. Devo dire che avere questa doppia funzione è magnifico perché noi possiamo andare a utilizzarla normalmente con la sua batteria, se poi magari durante una gara, durante un'avventura, eccetera, dovessimo avere problemi è molto più semplice recuperare tre pile AAA rispetto che andare a recuperare una batteria Core che magari non ha nessuno. Ci sono però naturalmente delle differenze tra utilizzare la batteria Core e utilizzare le pile. La grossa differenza sta innanzitutto nella durata della batteria perché la batteria Core tendenzialmente tiene un pochino di più come batteria e poi è che la parte di luminosità è diversa. Per intenderci la batteria Core arriva fino a 500 lumen invece quando si utilizzano delle pile la torcia arriva fino a 350 lumen. Questo perché se no se arrivasse a 500 lumen la scaricherebbe troppo in fretta. Per quanto riguarda invece la batteria Core che è collata in dotazione, ha un'autonomia di 100 ore se la utilizziamo a 6 lumen, di 9 ore se la utilizziamo a 100 lumen e 2 ore e mezza a 500 lumen. Tenuto conto che sul 100 lumen già abbastanza per poter fare una gara senza nessun problema, ecco che 9 ore sono sicuramente un periodo di tempo adatto per poter fare anche delle gare in notturna molto lunghe. Ci sono però tre cose che non mi hanno convinto appieno di questa batteria. La prima che utilizza ancora il vecchio standard micro USB per poterla ricaricare, non è ancora passata alla USB-C. Io mi aspetto che magari Pezzel rilasci una nuova batteria con la USB-C. E questa differenza ci porta anche al secondo aspetto che non mi è piaciuto, è che la batteria si ricarica veramente molto lettamente. Pensate che parliamo solo di una batteria da 1250 mAh e si ricarica in tre ore e mezza. Adesso va bene che sicuramente Pezzel ha diminuito la ricarica per aumentarne il ciclo di vita della batteria. Però cavolo, tre ore e mezza sono veramente veramente tante. Avrei potuto capire un'ora e mezza, due ancora, ma tre ore e mezza per poterla ricaricare tutta secondo me sono tante. E l'altro aspetto che non mi ha convinto è che non abbiamo dei LED di ricarica. O meglio, sulla parte anteriore c'è un LED che va tra il rosso e il verde. Quindi il rosso quando la batteria è scarica e il verde quando la batteria è carica. Però a mio parere un LED rosso e verde non basta. Diciamo che mi sarei trovato meglio avere almeno un 3-4 LED che se andavano ad illuminare mi faceva capire un pochino a che percentuale fosse la batteria. Almeno per avere un'idea, se fosse al 50, 75, 25%. Avere il rosso e verde personalmente l'ho trovato un pochino troppo poco. Dunque arriviamo alle conclusioni per questa Ico Core. Ve la consiglio? Sì, assolutamente, perché secondo me è una torcia da 3 running veramente con delle caratteristiche eccezionali. Pensate che la si trova online a un prezzo di soli 60€. È veramente leggera perché parliamo di soli 79 grammi. Diventa piccolissima perché possiamo farla su nella sua custodia, davvero diventa molto piccola quando la trasportiamo. Ha una batteria, come vi dicevo, di 9 ore, 100 lumen, volendo anche le stilo AA. Quindi cosa voglio dire di più? Se non è come torcia da 3 running, è perfetta. E detto ciò ragazzi, in una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione. Grazie a voi che guardate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!